Io sono lì perché voglio fare un grande ringraziamento alla ditta Moretti e a tutta la famiglia Fabbrini per quello che loro fanno e continuano a fare per la nostra misericordia. Questo materiale che è stato consegnato qui a Cabriglia, nei giorni scorsi è stato consegnato anche presso la sede di San Giovanni e devo dire che è un materiale veramente che abbiamo già messo in funzione e che sta rispotendo veramente il plauso di tutta la nostra cittadinanza che ha bisogno di noi, vengono da noi quando hanno bisogno di noi. Io ringrazio veramente, voglio ringraziare in particolare Filippo che è stato in passato da giovane, è stato il nostro volontario e che seguita a seguirci con tanta simpatia e con tanto affetto. Grazie di nuovo a tutti e bene, io non ho altro da dire.